C'è anche la provincia di Pescara nella vasta operazione di polizia che ha impiegato oltre 500 operatori coordinati dal Servizio Centrale Operativo in 14 province. Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno e Verona. Teatro di recenti episodi delittuosi e riconducibili a gruppi criminali giovanili. Gli interventi hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile in contesti contigui al mondo dei trapper. Ma per il capo della mobile della questura di Pescara di Frischia, qui le baby gang ancora non dilagano. Nella provincia di Pescara identificate 330 persone, di cui la metà minorenni, tre persone arrestate, due per spaccio e due denunciati a piede libero. Una quarantina di persone in tutta Italia, di cui circa il 25% minorenni, sono state arrestate e ne sono state denunciate circa 70, di cui un terzo minorenni. Sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni, nonché centinaia di dosi di droga, alcune delle quali nei pressi di un istituto scolastico e diverse somme di denaro, per un totale di circa 10.000 euro, per lo più provenienti dallo spaccio. Gli interventi hanno riguardato, come detto, soprattutto aree di aggregazione giovanile e in contesti contigui al mondo dei trapper. Ma qual è la situazione in provincia di Pescara? Lo abbiamo chiesto al capo della mobile della questura di Frischia. Noi siamo stati tra le 14 questure che sono state coinvolte in questo servizio importantissimo, organizzato dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato, che con l'ausilio anche dei reparti di prevenzione di crimine, delle SISCO e delle squadre mobili, ha coinvolto 14 questure e 14 province italiane. In particolare Pescara è stata individuata sia in quanto importante polo attrattivo di giovani in quest'area geografica italiana, sia in quanto negli ultimi mesi la Polizia ha condotto diverse operazioni in cui sono stati riscontrati che gli autori dei delitti erano dei giovanissimi fino anche minorenni e bullismo sia in forma di cyberbullismo sia di streetbullying cosiddetto. Nella provincia di Pescara c'è una correlazione con il mondo trap? Questi servizi sono stati molto importanti a livello di Polizia anche per accertare un dato che comunque era già emerso e cioè che seppur è vero che sono stati rilevati dei reati che possono essere sintomatici di criminalità giovanile in forma aggregata possiamo escludere che fino adesso esistano delle baby gang cosiddette a Pescara e di conseguenza possiamo escludere anche che ci siano gruppi legati al mondo della trap o ad altro tipo di bande giovanili cosiddette appunto. Abbiamo invece visto che per quanto riguarda la nostra provincia sono più dei felomeni legati a dei singoli individui che sono detti a delinquere, che sono comunque conosciuti, noti su cui sono state già compiute operazioni e continueranno ad essere compiute e quindi non fenomeni cosiddetti associativi.